No, 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 no. Alfie, che hai fatto all'occhio? Tutto ok? Mi hai sempre mentito. Avevi detto di essere mio amico. Non ti ho mentito. Non è successo niente da quando vi siete messi insieme. Te lo giuro. Sì, ma Camille ha detto... Camille non sa quello che dice. Era da parecchio che fra me e Emily non succedeva nulla. Da prima di voi due. E cosa provi per lei? Senti, io sono davvero tuo amico. E di Emily. Voglio che siate felici. Dovreste stare insieme. Ma non era questa la domanda? Cosa provo per lei? Non è importante. Mi tolgo di mezzo. Fine del discorso. Ora scusami, ma devo chiudere. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.